Un cordiale saluto dalla redazione di Arezzo TV, benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'informazione. In apertura la cronaca, profumi, contraffatti e poi un carico di borsette e capi di abbigliamento firmati, spariti poco prima da alcuni negozi. Sono due le operazioni che hanno visto impegnati gli agenti della Polstrada di Battifolle lungo il tratto Aretino e Valdarnese della 1. Gli agenti hanno prestato soccorso a due uomini, entrambi originari dell'Est Europa, che chiedevano aiuto dopo che l'autocarro su cui viaggiavano era rimasto bloccato a causa di un'avaria lungo la corsia d'emergenza. I poliziotti, dopo aver prestato loro supporto, hanno deciso di approfondire il controllo scoprendo, stipati nel vano di carico, decine di scatoloni contenenti profumi appartenenti apparentemente griffati, ma risultati una falsa riproduzione degli originali. In tutto quasi 3.000 boccette con sopra impresse le griff di Dior, Armani, Yves Saint Laurent, Bulgari e Gucci. Il valore effettivo sul mercato della merce sequestrata, spiegano, dalla questura sarebbe stato, nel caso di prodotti autentici, ben superiore a 500.000 euro. I due, padre e figlio, sono stati denunciati per recettazione e il veicolo è stato poi sequestrato. Nel pomeriggio, invece, un'altra pattuglia della Polstrada di Battifolle ha fermato per un controllo una Peugeot 207, alla cui guida c'era un trentenne cittadino sudamericano trovato in possesso di capi di abbigliamento e borse griffate, barberi e gucci. Alla richiesta di spiegazioni circa la provenienza di quanto trasportato, spiega ancora la polizia, la persona ha esibito uno scontrino d'acquisto di 140 euro, un maldestro tentativo di giustificare il possesso di tutta quella merce che ne valeva almeno 3.500. Accompagnato presso l'ufficio per gli accertamenti, anche grazie alla visione degli impianti di videoregistrazione, è stato riconosciuto come l'autore di due furti avvenuti in altrettanti negozi all'interno del centro commerciale De Mol a Reggello e pertanto è stato denunciato per furto. Passiamo adesso alla cronaca giudiziaria perché arriva la condanna per i titolari del ristorante di sushi che intossicarono numerosi clienti in Valtiberina. Ce ne parla Chiara Sadotti. Per un'ottantina di persone la festa degli innamorati si trasformò in una serata da dimenticare, intossicate dopo aver mangiato sushi e sashimi da sporto ritirato in un ristorante di Sansepolcro. Era il 14 febbraio del 2021 nel pieno del lockdown, non si poteva cenare nei locali e così i clienti del ristorante scelsero dal menù le portate da gustare a casa. Adesso, a distanza di tre anni, la decisione del Tribunale. I tre proprietari del locale sono stati condannati, ritenuti responsabili in concorso per omessa valutazione del rischio microbiologico e per aver messo in commercio cibo contaminato da un batterio e da un virus. Dopo aver consumato il sushi, molti dei clienti dovettero fare ricorso alle cure mediche che si presentarono al pronto soccorso, costati di vomito, diarrea, forti dolori addominali e febbre. Ci fu anche qualche ricovero. Poi le denunce e le segnalazioni e i carabinieri che aprirono le indagini assieme al Dipartimento di Prevenzione e di Sicurezza Alimentare dell'Asla. In un primo momento furono anche messi i sigilli al ristorante. I titolari adesso sono anche chiamati a pagare una multa per un secondo capo d'accusa correlato alla tosse-infezione alimentare e alle lesioni personali provocate. Per quanto riguarda le parti civili riconosciute, invece il giudice ha deciso che dovranno essere risarcite e che la montare dovrà essere stabilito in un procedimento civile separato, ma è già stata decisa una provvisionale di 150 euro ciascuno. E c'è stato un incidente stradale che ha visto coinvolte alcuni veicoli poco prima delle 16 lungo l'autostrada A1. Lo scontro è avvenuto in Corsia Sud nel tratto compreso tra il casello del Valdarno e quello di Arezzo. Per la presenza di mezzi in Corsia e uno dei soccorsi si sono formati alcuni chilometri di coda in direzione di Napoli. Uno dei mezzi coinvolti avrebbe peraltro perso il carico. E adesso torniamo ad Arezzo perché ci sono disagi al cimitero comunale della città. L'ascensore è rotto da mesi. Vediamo il servizio. È ormai rotto da mesi un grande disagio che ha portato ad un susseguirsi di lamentele. L'ascensore del cimitero monumentale di Arezzo da tempo infatti è in attesa di riparazione che però, come specificato in una comunicazione della direzione, non arriverà prima di luglio. Arezzo Multiservizi ha affisso alla porta dell'ascensore una comunicazione. Informiamo gli utenti che a causa di ritardi nella produzione e trasporti di pezzi di ricambio la riattivazione dell'ascensore non potrà avvenire prima del 30 giugno 2024. La stessa azienda avrebbe sollecitato più volte per una soluzione che però non dipende dalla stessa, bensì dalla ditta che ha in appalto la manutenzione. a mancare un pezzo di ricambio nella speranza che arrivi il prima possibile. L'ascensore dà accesso al piano superiore del cimitero, altrimenti raggiungibile solamente con le scale, dunque per anziani e persone con disabilità una situazione decisamente problematica. L'ospedale di Arezzo ha appena ricevuto in dono un nuovo macchinario. Si tratta di un elettrocardiografo per il centro trasfusionale dell'ospedale. Un elettrocardiografo per il reparto trasfusionale del San Donato di Arezzo. La strumentazione del valore di circa 4.000 euro è stata donata da Rotary Club Arezzo e dal Calcit. Una donazione che la facciamo insieme a Rotary Club, una collaborazione che continua e questa volta abbiamo individuato la centrale per la donazione del sangue. In corrispondenza del 14 giugno, che era la giornata del donatore, abbiamo ideato questa donazione assieme al Calcit che agevolerà di molto la vita dei donatori di sangue che potranno, solo recandosi al centro di donazione, poter fare la visita cardiologica attraverso questo strumento. Ci dà un'opzione organizzativa in più per venire a risolvere delle richieste che vengono fatte dai donatori per un ingresso in meno per gli aspiranti donatori. Vale a dire che l'aspirante donatore, grazie a questo elettrocardiologo, farà un ingresso in meno, quindi nel momento in cui verrà a effettuare la visita dall'aspirante donatore, faremo direttamente noi l'elettrocardiogramma in modo da risparmiare un ingresso in cardiologia per fare l'elettrocardiogramma. Un annullo filatelico speciale per l'anno vasariano. L'amministrazione comunale ha voluto celebrare la lancia d'oro dedicata ai 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari con un bollo speciale che sarà posto da Poste Italiane sabato 22 giugno al percorso espositivo I Colori della Giostra al piano terra del Palazzo Comunale. L'evento avrà luogo dalle 9.15 alle 12.45 dove il personale incaricato di Poste Italiane sarà presente per apporre l'annullo filatelico. Per l'occasione sono state realizzate due cartoline celebrative in collaborazione con la Fondazione Guido d'Arezzo che saranno disponibili gratuitamente da affrancare. L'annullo filatelico è una nuova occasione di storicizzare per la nostra manifestazione in quanto il bollo speciale realizzato proprio da Poste Italiane una volta concluso il periodo di utilizzo entrerà a far parte della collezione storica di Poste Italiane e sarà esposto al Museo Storico della Comunicazione. E torniamo ancora a parlare di giostra perché appunto è appena uscito il piano sanitario per la giostra del Saracino. Ecco tutti i dettagli nel servizio. Pronto il piano di sicurezza sanitaria per l'edizione 2024 della giostra del Saracino, un piano ormai standardizzato che indica la strategia da impiegare in caso di malori ed incidenti durante lo svolgimento della manifestazione. La valutazione degli eventi e la scelta delle risorse da impiegare sono dettate dal protocollo di intesa tra Ministro della Salute, Regioni e Provincie Autonome del 5 agosto 2014. Sulla base di tale protocollo la giostra del Saracino viene inquadrata tra le manifestazioni a rischio moderato e elevato. Durante tutta la settimana è dunque garantita l'assistenza alle prove e alle iniziative dei quartieri con la presenza di un'ambulanza BLSD. Nelle giornate più critiche invece è stato incrementato il personale in sala operativa, un impegno importante reso possibile grazie al supporto delle associazioni di volontariato. Sulla base dei dati forniti dagli organizzatori all'interno della piazza sono previste circa 5.000 persone ai quali si aggiungono i figuranti, i tecnici e il personale di servizio con circa 500 persone. In base al tipo di manifestazione e alla suddivisione della piazza l'Asla Toscana Sudessa ha messo in campo un disaster manager, 5 sanitari, 20 soccorritori di livello avanzato, 5 operatori radiocri dedicati, 4 ambulanze equipaggiate, BLSD dedicate alla piazza, 2 di supporto fuori e un posto di comando avanzato. Sono inoltre in pronto impiego a disposizione una tenda posto medico avanzata, una tenda ed una squadra di decontaminazione. Il piano operativo in occasione della provaccia è identico a quello della giostra con esclusione della sfilata. E adesso occupiamoci di spettacoli. La ventesima edizione del Mango Music Fest si avvicina. Il festival festeggerà questo importante compleanno con 5 giorni di musica al Parco Il Prato di Arezzo dal 9 al 13 di luglio. Ma viene oggi annunciato anche l'evento speciale che chiuderà la Kermess Retina. Domenica 14 luglio infatti sarà Paolo Benveniù a salutare il pubblico del Mango con un concerto all'alba nella Fortezza Medicea. Un appuntamento nell'incantevole cornice della Fortezza, un orario insolito. Il pubblico infatti potrà assistere al live del cantautore e godere delle luci dell'alba. L'inizio è previsto alle 6 e 30 del mattino, consumando poi la colazione inclusa nel prezzo del biglietto. Paolo Benveniù arriva ad Arezzo dopo la pubblicazione di È inutile parlare d'amore, il suo ultimo lavoro discografico uscito per World Warm e distribuito dall'Universal Music Italia. E adesso spostiamoci a Cortona, dove è partita la nuova edizione del Nume Academy and Festival. Sette giorni di concerti e alta formazione, 12 allievi selezionati fra i migliori astri nascenti della musica internazionale, 12 grandi violinisti e violoncellisti. Sono questi gli ingredienti della nuova edizione del Nume Academy and Festival. Vediamo il servizio. Il meglio della musica classica internazionale a Cortona grazie al Nume Academy and Festival. Anche per il 2024 confermata la formula vincente della Kermess, con nomi stellari della classica, affiancata a una serrata settimana di training per giovani prestigiosi musicisti selezionati da tutto il mondo. Da oggi fino a venerdì potrete semplicemente venire, entrare e ascoltare queste lezioni tra artisti internazionali e giovani studenti selezionati in tutto il mondo. Quest'anno abbiamo ricevuto più di 300 richieste per partecipare a questo corso straordinario di altissimo livello, dove questi 12 selezionatissimi ricevono la possibilità di partecipare alle masterclass in maniera totalmente gratuita, oltre a vita alloggio. Non solo Accademia di Perfezionamento, ma un festival a tutto tondo in città. È riuscito così tanto questo progetto all'estero, la fama della qualità di questo progetto artistico, che piano piano abbiamo cominciato a raccogliere la volontà di artisti, grandissimi artisti, a venire a Cortona, a partecipare. Infatti è nato così anche, a fianco al progetto dell'Accademia, un grandissimo festival. Infatti abbiamo degli artisti tra i più famosi al mondo. Quest'anno ci sarà il 18 giugno Stella Chen, che suonerà in teatro al Signorelli. Continuerà il 19 Tabea Zimmerman, la signora della viola, una delle violiste più importanti al mondo. Continueremo venerdì 21 giugno alla Corte dei Papi con un giovanissimo che ha appena vinto il concorso Paganini, Simon Zhu. E finiremo il weekend con due concerti a pagamento, due serate dedicate ai quartetti per archi, dove ci saranno l'esibizione di i docenti, che sono degli artisti famosissimi internazionali, Grazio Stanculeasa, Etre Causa, Stella Chen e Andrea Spranderit, insieme a questi giovani talenti. Nume Festival è anche promozione del territorio. Arrivano già da oggi e domani affezionati da tutto il mondo, che proprio partecipano a questo progetto, grandi mecenati, ma venerdì è un giorno particolare perché è il terzo anno che ospitiamo qui, proprio in occasione di Nume Festival, un convegno di manager di grandissime aziende italiane, tipo Poste Italiane, Telecom, sono dei manager che gestiscono il parco macchine delle aziende che appunto ospitiamo noi come Nume Festival a Cortona e questi manager parteciperanno ad un convegno e poi saranno ospiti dei nostri concerti e soggiorneranno qui a Cortona, quindi certo è un momento dove accostiamo l'arte al mondo imprenditoriale. Con Fesercenti ben volentieri si è resa disponibile ad arricchire quello che è la proposta, musicale di altissimo livello, anche con un modo per mettere in vetrina le eccellenze dei prodotti tipici del nostro territorio, quindi una collaborazione per coloro che si recheranno agli spettacoli con uno spazio in cui Cortona Vini presenterà le migliori eccellenze dei vini del nostro territorio e noi porteremo alcune invece delle eccellenze produttive, formaggi, tartufi, salumi, l'aione stesso della Valdichiana, quindi un modo per da una parte dare il benvenuto a coloro che arriveranno agli spettacoli, ma lasciare anche, investire anche in termini di cultura dell'anno gastronomia. Ancora un appuntamento culturale, tre giorni dedicati al fantasy con la prima edizione del Leprechaum Magic Festival. La manifestazione inserita nel calendario di eventi dell'Arezzo Celtic Festival è in programma da venerdì 21 a domenica 23 giugno nell'area verde di Viale Barsanti a Sansepolcro, che diventerà la location di un mondo mitologico tra antichi popoli, spettacoli e musica. L'evento troverà il proprio cuore nella volontà di celebrare il solstizio d'estate e rivolgerà una particolare attenzione all'intrattenimento con danze celtiche, tribali e animazione danzante con la scuola di danze irlandesi, ma anche musica dal vivo, magia, giocoleria con il fuoco, trampolieri, mercatini e gastronomia. E adesso occupiamoci di sport e parliamo di un progetto speciale, sociale e sportivo tutto a retino che vede in Ciccio Graziani uno dei protagonisti. Il servizio. Una passione molto importante, soprattutto per divertire e per lottare con tutti. È la mia passione. Calcio Champagne e Dream Team sono i nomi di due formazioni speciali che fanno parte della società Olmo Ponte Santa Firmina. A guidarle l'esperto allenatore Gianluca Livi e a trascinarle l'entusiasmo di Ciccio Graziani. L'ex bomber e campione del mondo è infatti il volto principale del progetto. Nasce all'interno di una società sportiva per dare la possibilità ai ragazzi con disabilità di entrare all'interno delle società sportive del territorio e giocare insieme ai loro compagni di classi e ai loro amici senza disabilità che tutti i giorni partecipano alle attività delle società sportive, nelle scuole di calcio e nel settore giovanili. Dato che esistono molte squadre di calcio per i ragazzi e per gli adolescenti, ma non esiste nessuna opportunità nel nostro territorio per le persone con disabilità, abbiamo deciso di aprire anche a loro la porta di questi impianti sportivi. Mettersi a disposizione di persone che nella vita non sono state poi così fortunate è una cosa meravigliosa e quindi questi ragazzi me li tengo stretti perché sono una parte del mio cuore importantissima. Squadre che hanno trovato uno spazio all'interno della Rezion Cup, una vera e propria festa del calcio giovanile. Per la prima volta in città si sono svolte le finali Special Olympics Italia Area Centro Special Football 2024, un torneo di calcio inclusivo con la partecipazione di 5 squadre e 50 atleti. È sempre un'esperienza molto emozionante perché poi ti ritrovi a giocare delle partite vere e si vedono proprio delle emozioni in campo perché in allenamento sono tutti ad alto livello, poi dopo vengono qua a giocare e un po' di emozione li frena ma è il bello delle partite insomma. Almeno possiamo dimostrare a tutta Rezzo che noi siamo bravi a giocare ma anche per divertirsi contro le altre squadre che vengono qui a giocare con noi. E poi ci si diverte, si sta in compagnia, giusto Nicolás? Sì. Dal calcio al basket, la scuola basket Arezzo annuncia con grande soddisfazione il nuovo acquisto per la stagione 2024-2025. In Amaranto arriva l'esperta ala Michael Lemmi, reduce da una stagione divisa tra la Serie B nazionale a Cassino e la Serie B con il Fiumicino. Alto 1,97 m dotato di grande temperamento, Lemmi sarà il nuovo punto di riferimento della SBA nell'area pitturata grazie al suo atletismo. Le prime dichiarazioni di Michael Lemmi in Amaranto sono entusiasta di far parte del progetto scuola basket Arezzo, piazza calda e importante della Toscana. Non vedo l'ora di iniziare la prossima stagione e dare il meglio di me sia come giocatore che come persona. Il commento di Coccio Fioravanti è questo. Michael in questo campionato non è un giocatore che ha bisogno di presentazioni. Vista la giovane età media del roster ci darà sicuramente tanto di esperienza e in atletismo e fisicità che sono poi le sue caratteristiche principali. Torna a giocare in Toscana dopo qualche anno e mi ha dato subito la percezione di essere motivato e voler fare bene. E in chiusura parliamo di ginnastica. Un premio per le storie di eccellenza valoriale espresse dal territorio aretino. lunedì 8 luglio alle 21.15 la Fortezza Medicia ospita la quarta edizione del premio Aquila d'Oro Città di Arezzo che è organizzato dalla ginnastica Petrarca con il Comune di Arezzo e il Coni di Arezzo per raccontare le storie virtuose emerse dal mondo dello sport e della società civile. Il premio impegno e determinazione sarà conferito per lo sport al judo ok Arezzo e per la società civile invece a Graziella Buoncompagni. Il premio resilienza spetterà per lo sport a scuderia di Pan e per la società civile alla Fedelux e il premio extra etica e fair play verrà consegnato per lo sport ad Amedeo Carbone e per la società civile a Gian Maria Scortecci. E con questo è davvero tutto per il nostro telegiornale e vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci. Grazie a tutti.